Io intanto fatemi partire con il monologo dove partirò dal calcio mercato. Allora, occhio al calcio mercato perché comincio a sentire e a leggere nomi buttati lì senza né capo né coda. Veramente non riesco a capire perché si danno i nomi così senza neanche una loggia. De Allan non so nulla, però ho letto di nomi dove veramente sono inventati. E come al solito, come al solito si incomincia a inventare. Io quello che vi posso dire è che la Roma cerca un terzino destro sicuro. Che sul centrocampista aspettiamo l'uscita di Pilar e di qualcun altro per vedere questo centrocampista. Non ci stanno grandi nomi volate e bassi perché è il mercato di gennaio. Per quanto riguarda il terzino destro, ripeto, so di sondaggi ma non vi posso dire a Roma prende quello o quell'altro. Se lo sapevo, ve lo dicevo, lo sapete. Poi c'è la situazione Majoral dove io so che comunque è destinato a partire a meno di clamorosi colpi di scena. Però l'andazza era quello. Poi è fatto una partita bene con CSK. Passofia si è scritto, però credo, non lo so, vediamo, ma io credo che Majoral è sulla via della partenza proprio Majoral. Per quanto riguarda il sostituto di Majoral, la Roma potrebbe prendere un giocatore low cost. Quello sì, però vediamo, ancora è tutto in divenire. Ripeto, io non mi metterei a parlare del mercato a due o tre giorni prima di Atalanta-Roma. Preferisco far concentrare la squadra, noi tutti quanti, sulla partita. Poi, se ci sono notizie vere, è un discorso, vanno date. Se bisogna far bene i giornali con le notizie così, io non vi seguo perché per me è sbagliato. Adesso l'Atalanta-Roma siamo tutte vittime sacrificali. Abbiamo deciso che andiamo a giocare col Bayern Monaco, col Sidi. A Roma perderà, sarà anche così. Io prima di giocarla la partita non mi voglio rassegnare a una sconfitta dove tutti quanti ormai hanno deciso veramente che la Roma perderà questa partita. Io voglio andare lì con la mentalità di giocarmi questa partita. Ricopreremo Smolling, ricopereremo Zagnolo. Voi ditemi se l'Atalanta ha uno Smolling dietro, se l'Atalanta ha uno Zagnolo, se ritorna in forma un giocatore del genere. Poi si dice, ho capito, noi abbiamo 45 milioni. Cioè, non è che stiamo a parlare che noi dobbiamo andare là veramente come l'ultima squadra del campionato. Cioè, abbiamo dei problemi, abbiamo delle assenze, per carità anche pesanti, però abbiamo anche una rosa che costa tre volte quelle d'Atalanta. Andiamo a giocare questa partita. Mourinho deve prepararla bene, secondo me, prepararla bene, prepararla con coraggio. Bisogna fare una partita coraggiosa, ragazzi. Se andiamo là, se cagiamo sotto, è finita. È finita perché l'Atalanta prende coraggio, ti incomincia a apprezzare tutto il campo, ti incomincia a giocare uomo su uomo e vince tutti i duelli con una forza fisica imbarazzante. Poi mi chiederete perché l'Atalanta si topano. Eh, ragazzi, questo, se può dire quello che ci pare. Sono sei anni e non ci stanno contro riprove, perciò è pure difficile adesso di se topano. Io vi dico pure che si allenano pure bene perché ci sono degli allenamenti anche di Casperini. C'è gente che parla di Casperini che l'Atalanta quando si allena, si allena veramente forte, si allena sulla pressione, si allena con partitelle a campo ridotto, due contro due, uno contro uno, tre contro tre, quattro contro quattro, quattro contro due, ma con una massima intensità dove buttano tutti i palloni dentro, dove si allenano con la palla ma con un'intensità clamorosa e i giocatori dicono, e noi quando giochiamo la domenica per noi è riposarci, perché quando ci alleniamo veramente facciamo più culo noi che i manuali al cantieri. Perciò questo luogo comune non lo darei, non darei l'alibi, io sto a sentire un po' in giro, ho letto, no, la Roma è stanca. È stancata, è come l'altra, la Roma gioca come le altre squadre, anzi a Roma c'è avuto la fortuna che fa la Conference League e in questo girone ha potuto fare tanto turnover. Pensa alle squadre che fanno la Champions League e non possono fare turnover. non è vero, non attacchiamoci alla stanchezza, agli assenti, tutte cose che io non mi voglio attaccare. Sono giovani, sono allenati, purtroppo giocare a questi livelli è questo, devi fare le coppie, sennò non puoi giocare nella Roma e non puoi giocare in una squadra di livello se non gli ha a far fare la partita ogni tre giorni. A me mi pare che il Barcellona è quello che vince tutto, Messi, Xavi, Iniesta, Pugliel e Busquets giocavano sempre. Giocavano sempre e non erano mai stanchi. O sì, magari potessero essere appannati, ma giocavano sempre. Perciò è un luogo comune, sono stanchi. Adesso sono stanchi. Ma che cazzo stanchi? Ma che stanchi? Ma che stanchi? Siamo stanchi noi di vedere questa Roma, vorremmo vedere una Roma più propositiva. Io ripeto, io vado, mi vedo la partita dentro di me, io lo so, io lo so dentro di me che è una partita difficile, difficile per tante ragioni. Però prima di giocarla, prima di giocarla, voglio andare con il pensiero che può succedere tutto, perché è una partita di garcio, se gioca 11 contro 11, perché comunque ci hanno Frollere e Deron, Sappagosta, Demiral, Ginsiti, Zapata, sì, Forte, però non mi pare che sono giocatori top player, che io devo andare là e so proprio per certo che vado là e vado a prendere la sveglia. Purtroppo tu sei certo che vado a prendere la sveglia, se non corri, non metti ritmi e alti, intensità, non metti cattiveria, ci vai con la mentalità da perdente, allora là sicuro l'Atalanta non è che perdi, è straperdi, può prendere 5, 6 go, perché poi quelli non si fermano, i bergamaschi, non è che siamo proprio così, tanto simpatici, no, la cosa è reciproca, però è così, perciò noi dobbiamo giocare con carattere, mettere in campo voglia, intensità, ritmo e personalità, personalità, giocatori miei, allenatore mio, Mourinho, che ti voglio bene, siamo la Roma, siamo una squadra gloriosa per la Serie A, perciò ripeto, andiamo là con personalità da grande squadra, poi posso accettare il risultato della sconfitta se la Roma va là e prova a giocare con personalità. più un'elemento da noi, dopo la fine, Grazie.